In questo Consiglio europeo è stato chiesto, con molta enfasi, dicevo da parte nostra, che la Commissione e il Parlamento europeo procedano con la massima rapidità alla definizione del certificato del Green Certificate, quindi per avere un modello europeo su cui confrontarsi e su cui disegnare le politiche turistiche. Io, come credo la maggior parte degli italiani, voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma, come ho detto l'altra volta di cui abbiamo parlato, quando abbiamo parlato di questo, bisogna farlo in sicurezza. Grazie. 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 Grazie a tutti.